E' un 27enne romeno l'uomo che nella notte del 20 aprile 2016 diede fuoco a 5 auto in via Perugia ad Arezzo. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Arezzo lo hanno arrestato in seguito ad una ordinanza di custodia cautelare del GIP di Arezzo. L'autore degli incendi delle automobili è stato individuato grazie a complesse indagini con l'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Il 27enne quella notte ha incendiato l'auto di proprietà di un connazionale, padre di una ragazza con cui l'uomo arrestato aveva avuto una relazione sentimentale finita pochi giorni prima del 20 aprile in seguito alla scoperta che il 27enne era già sposato in Romania. Dalla prima macchina incendiata le fiamme si sono propagate raggiungendo e bruciando altre 4 auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. L'uomo domiciliato a Roma è stato arrestato all'aeroporto internazionale di Fiumicino con la collaborazione dei militari della compagnia Aeroporti di Roma dove aveva appena riconsegnato un'autovettura presa a noleggio. Il 27enne è stato condotto presso la casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria.